Voglio premere un tasto Aspetta Cazzo si fa? Ah no, questo Eh no La sigla è di cosa? Niente Ah ok, ok, adesso lo vedo Spice! Eh che cazzo, ogni volta che gioco a sto gioco mandate questo cazzo di alert Allora fatemi ricordare un attimo Ieri abbiamo visto Il fascio alieno Qua che è? Ah ok Ieri abbiamo visto il fascio alieno Ma non è successo niente Non mi sono venuti a prendere Non è vero, Sduca Sì Eh, potete cambiare la categoria Grazie Questo sta andando Ok Questo lo dobbiamo accendere UFO PORNO UFO PORNO UFO PORNO Di aprire la porta in piena notte Va bene, lo faremo Tanto devo andare a letto Perché sto Il mio PRG è stanco Ah, devo spostare la cam Merda Ehi, sei gay Oddio Sono un gay Speravo finisse nel dimenticatoio Quell'alerte Invece L'avete portato avanti lo stesso Come è andato il giorno di oggi? L'abbiamo fatto Non mi ricordo più E-mail Daily task No E allora Brutto testa di cazzo Vai a prendere I codici A coglione Dove stanno i foglietti? Non ce n'ho più Non ce n'ho più fogli Get reports Ricordati Sì, sì, sì Ci abbiamo un sacco di tempo Non si deve preoccupare Caro mio Guarda qua C'è il datone Che si fa? Si gioca a questo E vado 5 ne volevano Yes Aspettiamo che torna il gatto Intanto ci rifusilliamo Chiudo un po' le porte E poi Cosa facciamo? Si va? Diego, dottor Mitch Ha trovato la sua nicchia E su Apex Dopo un periodo scuro Siamo di nuovo Su una media di 8 spectre Credetemi Sto mondo Sta un po' esagerando C'è bisogno di rimettere La clip in chat Comunque Evi Ah ragazzi Vi devo chiedere delle cose Potete fare più clip Dio cane Perché non le fate mai Fate le clip Rinominatele Contribuite tantissimo Cos'è quella cosa Che sta passando Sullo schermo? Ah, sono le stelle nel cielo Fate clip Madonna santa Cos'è sta cosa? Cos'è sta cosa? La voglia di crescere E di imparare insieme Mandate curriculum in privato Con vostro nome E numero di telefono Vi ricontatteremo Noi Madonna, sto cazzo di merda Va, scusiamo il foglietto Ma non me l'ha mica lasciato qua Ma come l'ha buttato fuori? Ma è stupido Ma fuori dove? Ma è stupido Data Channel Starter Park Ho sette giochi Indossare sempre Gli stessi indumenti Non avere una programmazione Puzzare Insultare la chat Confrontare la propria vita Con gli altri E vantarsene Urlare per qualsiasi cosa Ho sette progetti Vedere video di moltene Che non interessano a nessuno Viare la stream Del venerdì mattina Alle quindici Guarda Tomasu Sei bocciato anche oggi Mi dispiace C'è la fai Devi studiare di più Tomasu Te lo dico Sei molto indietro Devi fare più pratica Ma come non vedi errori? È troppo È troppo facile così Non fa ride Capito? No Vabbè tanto era una merda Quel segnale Asteroid Dì 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 Ma cazzo Ho sbagliato Adesso Vabbè ho mandato quella dei codici dai Ma se è tipo una cosa ma Quindi devo aprire a mezzanotte No a che ora In questa notte Cercasi ragazza che ci faccia da coach su lol Preferibilmente codica sempre su richiesta di ala O mandate curivo in privato con vostro nome e cognome e numero di telefono Perché Ma che vuol dire gotica Gotica Che cazzo di Che cazzo di richiesta è voi Un po' troppo specifica Ciao Davirix Non c'è un'area specifica Non c'è una notte specifica Appare un giorno Ok 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 Va bene Allora me ne faccio i cazzi miei Dai Me ne faccio i cazzi miei Comunque Dopo mezzanotte era però Di notte È notte È notte no? No Sono le 7 1511 C'abbiamo un sacco di soldi Abbiamo upgradato tutto quanto Tutto Non dobbiamo far più Cioè non abbiamo nient'altro Nessun altro upgrade da fare Comunque è la prima volta che facciamo quell'incubo Non era mai successo Il punto verde che cosa indicava? Eh ma lo devo portare su il narratore men picco per fare quella cosa lì Alla prossima Alla prossima Mo' che cazzo è? Ah Server alert Madonna che brutto suono Porco di No sono i server che esplodono credo Servere x-ray requires mantenement Ci abbiamo tre satelliti fuori uso No tengo voice of the badge Ho deciso così preservo la ormai perduta tradizione di questo canale delle emot Guarda che quello più badge di tutti si educa lì della loggia che scrivi sempre le stesse strozzate e non fai manco più rite Ormai sei passato de moda Stai aggrappando con tutto te stesso su delle battutine cringe che veramente sono oldissime Facciamo rite forse nel 2017 su twitch E' rimasto solo questo territorio fertile per sfogarti Bella cosa ho bentornato 18 anni Nota importante dopo che avrei triggerato l'evento ed esserti fatto prendere dal panico Guarda la telecamera che mostra l'ingresso Che cazzo ne sai scusa ma come stai a piangire narratore Che cazzo ne sai scusa ma come stai a piangire Che cazzo ne sai scusa ma come stai a piangire Grazie. Siamo i vatussi, siamo i vatussi. No. Bentornato, grazie caro. Siamo i vatussi. No, no, no. No. Chissà, che cos'è questa roba qua? Che cosa sono queste cose qui? Le avete visto? Le avete visto davanti alla porta? Che cosa? Ah! Che devo fare? Che devo fare? Diego tranquillo, sono solo dei rumeni. Era questo l'evento, scusami. I manichini davanti alla porta. Manco un euro gli lasci. Ma non ho capito che cazzo di evento è. Ah, questo qua è comunque il quad. Lo devo andare ancora a riprendere. Porca troia. E se andassi adesso lì a prendere il quad, che dite? Di notte, a piedi. Guarda, comunque non si può usare. Non si capisce. Devo andare a prendere il quad in quella posizione laggiù. Tra l'altro Madden mi aveva dato una posizione... ...da raggiungere. Faccia le 3.33. Ah, ci posso sempre andare adesso, eh. We had to restart one of the section of our nuclear reactor, which created a strong voltage input. We will check what system got out of control or could be broken. If we notice anything, we will try to fix this up. But just in case, just to check the breaker on top of the tower. On top of the tower? Ah, in che senso? No, non è... Non è una cazzata questa. Devo indice di andare in cima alla torre qua. E di ceccare. Eh, vabbè, qual è il problema? Ci vado. No, va un piccolo cecchino! No, io non ho paura di niente. Io sono molto coraggioso. Ho giocato tanto in giochi horror. Ti pare che questo giochetta del cazzo mi possa far paurina? Andiamo a controllare! Vuol dire che il dottor Bao si è inventato una scusa? Ma perché? Ma chi è il dottor Bao? Ma non è dalla mia parte! No, non è dalla mia parte! Spice! Spice! Portacci tua! Succede niente qua comunque! Madonna ragazzi! Quando fincete... Quando fincete... Che c'è qualcosa per farmi paura... Mi sembra della chat di Matteo HHS! Porco Dio! E non è un complimento, eh! Ah, quindi lui mi ha detto quella cosa per farmi uscire! Ma io sono uscito dalla porta del garage! Era un tanja! Senti, ma se vado... Se aspetto il giorno e vado di giorno in quel posto... Tanto compro un po' di cosina, eh! Mi compro il caffettino... Qua mi compro... Basta, ho comprato tutto! Che cazzo devo comprare? Un po' di drive! Ah, devo comprare i fogli! Ok! Mi arriveranno dodici droni! Chiacchierata? Che giorno è? 34... 34? Ah no, siamo nel giorno 35, sì! Chiacchierata! Guarda! Credo siano infiniti i giorni, però... Gli eventi sono scatenati fino a un determin... Fino a un determinato numero! Sì, ce l'ho lo zaino, è vero! Ma non credo, perché avete cancellato i messaggi di Alediva? Che è successo, Elong? L'ha buttata così tanto di fuori? Arriva un utente nuovo e già gli risponde in ritardo Lo pigli pure per il culo per come ha scritto Cioè io, boh, ormai sono gli esseri tratti con i guanti O i Darioners Ma che cazzo ne so io chi sono i Darioners? Porco Dio! Madonna Elong, che fastidio! I Darioners I Darioners I Darioners I Darioners I Darioners I Darioners Allora, possiamo cambiare il comando per autoesploderci dal cringissimo punto esclamativo Cosa ne pensi di? Ad un più veloce vanish Come in tutti gli altri canali Aspetta che ci penso No A 800 sub lo faccio Sentite Vi piacerebbe un gollino a 1000 sub? Un gollino a 1000 sub A 1000 sub facciamo l'album dei Darioners Su Spotify Quindi ascolto le vostre canzoni che avete su Suno Cerchiamo di metterle a posto E le mettiamo su Spotify Mille sub Maratona 48 ore Ma tu stai fuori col cervello Franci Ma che cazzo dici? Sub Goals nel 2024 E Long 26 nel 2024 Immagina Immagina Senti posso spostare il caffè qua in questa stanza? Perché lo tengo nel là? Cristo di Dio Che succede? Porco Dio Sta succedendo un casino Dottor Micia ha perso la nicchia Ed è tornato a Trespects Ragazzi voglio vendere un po' di utenti della mia chat Li voglio vendere Come si fa? Voglio vendere Voglio vendere Andrea Gid E voglio vendere Anche Gali della loggia Mi li prendo io Quanto li vendi? Andrea Gid Te lo vendo per Te lo vendo per Due sub Gali della loggia Cento Comunque non mi è piaciuto l'evento dei quattro giorni Sembrava qualcosa di veramente figo Invece è una delusione costante Non ho capito Ieri il raggio viola è stato incredibile Incredibile regà Come le tue live Ciao ragazzi Sono venuti sbammi Sono arrivato l'altro giorno Sono simpatico vero? Aspettate un secondo faccio l'imitazione di Di gali della loggia Noi no 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 bella ragazzi, bravi della doccia, sto cercando il cazzo, poiché addio, seguo solo datatrice e io rompo il cazzo tutti i giorni, poiché madonna, mi piace ben segnare il dio grazie a tutti grazie a tutti dicevi che non era successo ancora niente no no, succedono di cose, però tipo alcuni eventi sono un po' più deludenti rispetto ad altri tutto qua questo lo posso dire no? o vi offendete? Cristo del dio quanti drive voleva? daily task, 4 segnali di livello 3 e ce li abbiamo 2, 3 e 4 poi prendiamo il fogliettino report, stretch, hold and get reports ciao andiamo a recuperare il andiamo a recuperare ehm il quad, il quad, il quad ma non lo capito, ma non è diventato solare il quad mo non è subito, ma non è diventato solare il quadro Ciao Craig2000 Come stai? Ciao Paolo Laval Sto passando un momento Davvero veramente difficile Volevo ringraziare te Da ovviamente la chat Perché riuscire sempre A strapparmi un sorriso E a liberarmi la mente Da brutti pensieri Fa molto piacere Carlo Dai che fa tutto bene Dai Pensa che c'è sta gente Che sta peggio Vedi Boh Prendi uno in chat A caso Vedi Diego? Che cazzo c'entro io? Prendi uno in chat really attendo Credi? Schnapri cult eleven and Ma cazzo Mi ha regalato degli oggetti Prendo tutto Che è successo? Un secondo e mi sono andato dei messaggi importanti Vabbè Vabbè ma Buon pomeriggio Ti contatto dalla casa editrice Newton Compton In merito al contest Scrivi il tuo aforisma sull'amore Federica ha vinto un contest Della Newton Compton Ma che cazzo stai a dire? Ma non ho capito Ma quindi puoi prendere un tè con Felicia Kingsley Ma come un tè? Ma che cazzo di premio è? Ma chi è questa poi? Che scrive? Felicia Kingsley Una scrittrice Che cazzo ne so Sono i libri di Newton Compton Io non ho mai vinto un cazzo Ho partecipato a 2000 contest In vita in me Non ho mai vinto un cazzo Vaffanculo Ah ma ti dà pure una pizza Ah Una fetta Vabbè Vaffanculo È un'autrice di romanzi rosa Mi spieghi come fa Federica Una donna vincente Nella vita piena di successi A stare con uno con te Che giochi e giochi Seduto su una sedia Dentro un bunker Ma che so quei cosi? Ma sono dei pavillon Guarda la mia risposta è questa Pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa Pa-pa-pa Non zabbai Pa-pa-pa 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 Non zabbai Perché ho preso un pavillon? Ma se andiamo in 874 Meno 874 Ma è fuori dalla mappa Mad È fuori dalla cazzo di mappa Ci puoi andare 874 È di là Bella Lugo Ben tornato Grazie del Prime Grazie caro Del supporto incredibile Non puoi capire Incredibile Il più potente Qui devo uscire là fuori E continuare E continuare Oltre Sei sicuro? Ma invece quello dei cubi in cielo Vabbè Andiamo a vedere questo Dopo questo Che gioco porterai? Oddio Ma scusami Ma Akainu Ma Quando te fidanzi con una tipa Che fai? Dopo questa Dopo con chi se fidanziamo? Dai Dopo questa ragazza Con chi ti fidanzerai? T'hanno mai fatta Sta domanda Amici tua Guarda Te la faccio Anche in versione gay Dopo questo ragazzo Con chi ti fidanzerai? Anche in versione gay Scavalco Scavalco Non mi fa scavalcare Quello dei cubi in cielo Se non riesci a uscire Usa look Per aggrapparti Un albero Uscire E metti la moto In equilibrio Sulla recensione E salici Per aggrapparti Ho 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 Ma c'è il muro invisibile Mad C'è un muro invisibile Proprio sopra Oh ma là c'è il cubo Eccolo Là c'è stanno i due cubi No ma Da quando è che c'è il legno Scusa Regà non posso scavalcare Non si può Ma comunque A Gaino non ha mica risposto poi eh Non ha risposto Si è essuccato la mia risposta Non è mai successa sta cosa Ah era per i cane È vero Eccata Testa Cercasi ragazza che ci faccia da coach su LOL Preferibilmente Gotica Punto sempre su richiesta di Elong Mandate curriculum in privato Con vostro nome Cognome Numero di telefono E Instagram Punto opzionale Gioco nero Cerca una ragazza Preferibilmente Con il pipo Possibilmente single Che faccia compagnia Mentre gioca a Baldur's Gate Cerca un albero più vicino Alla recensione Eccolo Questo E che E che cazzo faccio Attaccati un albero E poi salta Ma non mi Ma non mi Ragazzi Ragazzi c'è il muro invisibile Cerca un punto senza muri Ce ne sono Ma non si Sto cagato addosso Dove devo andare? Meno 874 Meno 874 Ma è dove c'è stata la torre Ma perché hanno messo la roba qua? È l'angolino della mappa C'è il muro invisibile dopo Là c'è stanno i due cubi di merda Che devo fare sotto i cubi? No Quello è un cubo e una palla L'ho presa L'ho presa Tutto qua Posso rientrare? Ok Scappa prima che ti stuprino Chi mi deve stuprà? No No il cane strano stava qua Ok ho preso l'altra chiave Boh Che roba strana però Cioè il gioco Il dev ti costringe ad andare fuori dalla mappa Cioè il gioco Cioè il gioco All'entrata dove? Senti ma mo' mi sono imparato a scavalca Io scavalco col rampino Vado all'entrata della mappa Senza che esco dalla recinzione No no Posso scavalca Scommetti che ci riesco Oh Stai parlando col king Dello zabbaglione Sommetti che ci riesco Ragazzi, c'ho sempre paura Sì, sto sempre con l'ansietta In realtà io vorrei prendere la chiave all'entrata Perché tu mi hai detto, o mi avete detto Che c'è una chiave all'entrata Non l'ho mai presa Mi hai detto sposta il tavolo Ragazzi Spice Mi mandate la clip Di 5 secondi fa C'era qualcosa qui per terra Fermo È scomparso quando mi sono avvicinato Mi mandate la clip Fate una clip adesso Prima che mi fermassi col quad Dov'è l'entrata, porco il mondo Qu'è l'entrata? No 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 Grazie a tutti. Dov'è la pupazzetto? Dov'è la pupazzetto? Dov'è la pupazzetto? Ho paura di stare troppo fuori, mi avete detto che arriva qualcosa. Ma pupazzetto sti cazzi, dai. No, non lo voglio prendere. È troppo che sto fuori. Quella, montagna? Quella o quella? Va bene, proviamo. Si Diego non prendiamo il pupazzetto, sti cazzi, tanto il gioco ci offre talmente tanto che non è necessario. Non è necessario. No. 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 Ma non c'è nulla. Non c'è niente, regà. C'è i capelli verdi, non quelli blu. No. 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 ... 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 Are you here? Is there any... Is anybody there? Is there is someone in the chat from another country? Or are you all Italians? Sera Scommetto che è un... Scommetti che è una... È un manichino di merda Sta a vedere? Manichini comunque sono andati avanti in perterriti Incredibile Ma scusa non stai vedendo la got league? No scusa mago c'hai ragione Aspetta adesso chiudo Ciao 1-9 Perché che stanno a fare la got league? Che stanno a fare botte? Comunque abbiamo tre sfere Quattro sfere E un punto rosso qui Che non si sta muovendo Davvero Fatto bene Provo a dargli da mangiare altre di queste merdate eh Perpanse Fa Chi 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 L'ho già messo nel microonde ragazzi L'ho già mangiato in live Non succede niente L'altra volta mi sono mangiato un uovo di alieno Si I gatti che fanno le uova Non sta abbastanza Non sta benissimo dottor Nose Chiama i gatti è in dubbio Ma non ho capito perché c'è stanno le uova Forse non sa come si riproducono i gatti Può essere Ma ad un certo punto spero che non ci sia un altro di quei razzi Tipo quei raggi fortissimi Che fanno suonare tutti i cazzo di allarmi Ora da tanto che non riparavo questi 8 più 9 8 più 8 16 Ok L'altra volta uno mi ha detto 8 più 8 18 Ma come cazzo sta De porco dio Cos'è No non ero io Non è vero Mentiroso Comunque sta cosa qua secondo me potrebbero mettere degli upgrade per renderla automatizzata Ad un certo punto in endgame No già non è vero Ad un certo punto in endgame dovrebbero automatizzarla Ragazzi vi rendete conto La difficoltà nel portare avanti un gioco e finirlo Ma vi rendete conto come cazzo quanto è difficile con questa chat del cazzo Che appena faccio un gioco per più di due giorni mi strattitura i coglioni dicendo Toglilo Basta Hai rotto il cazzo Toglilo Via Ho deciso Visto questa lezione Che quando inizia un gioco Il primo in chat Che inizia a lamentarsi del gioco Viene time-mattato per un giorno E tu nel giorno dopo Semplicissimo Proprio Bastone e carota Me ne frega un cazzo Sì sì No se lo fate forzatamente non funziona No 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 Grazie a tutti. Aspetta come si affronta sto sogno? Aspetta come si affronta sto. Aspetta come si affronta sto sogno? Vai a riparare il server. Aspetta come si affronta sto sogno? 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 Ho sbagliato tasto Ragazzi dunque mettete un'ansia Porca madonna siete incredibili Io come faccio a sapere quando torna la corrente Che sto qua sopra Che so Che so tutte quelle palle lì So funghi Come faccio a sapere se è tornata la luce Ciao papà Sto sicuro papà che sto gioco ti piacerebbe veramente un botto Ti metti lì Ti fai tutti gli eventi che ci stanno da triggerà Te li scopri tutti E' tornata internet Oh Eccolo Che cazzo Ma il gatto non è che l'ha dist Non è che ha ammazzato il gatto Me l'ha distrutto Me l'ha disattivato Lo può fare Ah farà insharauded GG Ti pare mi entra in base adesso Farebbe ride Che cazzo fa Non tocca l'acqua Ha paura dell'acqua Quindi potrei andare in acqua per scappare Che fa? No ma non può entrare a me in base Dai Oh ma il gatto Non tocca l'acqua è che cazzo sta No Ma che cazzo sto passato in mezzo alle parriere Ma che cazzo fa? Si può passare in mezzo Senti ma sta grafica io non capito è PS1 o PS2 Non riesco a decifrarla È PS2 questa vero? Uno No questa è PS2 dai Oh ma l'avrà attivata sta cazzo di luce o no? Cosa sono questi Queste scosse che passano qua Vedi? Mi sa che ancora non l'ha attivata raga No ma No raga ma c'è un problema Fermate Non è andata via la corrente Non si è spento C'è qualcosa che non va Sei sicuro che fa così? Eh ma il gatto Il gatto dove cazzo è andato? A volte il gatto si incastra nei generatori Non è andata via la corrente Ma dite che si è incastrato Non è andata via la corrente Non è andata via la corrente Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dove vado, dove vado, dove vado? Dove vado? Dove vado? Ma mortacci tua, coglione testa di cazzo! Sei inutile, sei completamente inutile! Dove vado? Ma Franci, ma mi spieghi perché scrivi in maiuscolo da un po' dei giorni a stavarte? Vorrei che te leggo lo stesso, eh? Anzi, se scrivi in maiuscolo non te leggo più. Cioè, poveretto. Cioè, dico una cosa a uno, poveretto. Mi rompono il cazzo da 13.000 anni? Va bene, va bene così. Altri poveretti, eh. Cazzo, che mi è caduta l'arma? Dove mi è caduta l'arma? L'ho persa! Cazzo, che mi è caduta l'arma? Cazzo, che mi è caduta l'arma? Entra dai, porco D! Quindi, ricapitolando, sto foglietto che cazzo, eh? Ciao, destini! Come stai? Cos'è sto foglietto? Perché c'era? 23 e 11. Taking a note for whoever reading this, so that one figure stand next to the concrete pole. Could you not get a good look? My eyes were blurry from the lack of sleep. Maybe allucination or no. 8 e 40. Sono uscito per investigare, ho visto le impronte, nello stesso posto dove si trovava la figura all'ultima notte. 17 e 09. Non mi sento safe, voglio andarmene via. Niente, non riesco a capire queste info. Non riesco a capire che ha comunque. Questa, prima di chiudere ficca l'arma nel microonde. Perché? Perché? Bella raffotto. Perché l'anno mettere il microonde? Sa cosa il microonde, comunque, è presa dai film horror. Dai, i gremlin. Ma devo salvare? Ma devo salvare? Boi. Dai, i gMi. Si. Vabbè. Mah. Torn. Sì, hai sentito un rumore strano, l'ho fatto gato Non me la fa usare Ah, il foglietto quello che cercavo, ma porco Portal Easter eggs, non ci ho mai giocato a Portal comunque AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH No, da Half-Life ci ho giocato, sì Ah, che cazzo devo dire, Half-Life è un classico Cazzo, ma ho finito i soldi per comprare tutti quei cazzo di shrimps e di merda Va bene Grazie 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 Grazie